Valtteri Bottas ha parlato per mesi della sua speranza di firmare un contratto che lo tenga in Formula 1 anche il prossimo anno. Si è diretto verso la recente pausa fra il Gran Premio di Singapore e degli Stati Uniti, ottimista sul fatto che un nuovo accordo con Sauber sarebbe stato finalmente completato. Dopo che le opportunità altrove erano state ridotte, allora perché ancora nel limbo? Bella domanda, ho detto che speravo che prima di Austin fosse sistemato, ma stiamo ancora aspettando le decisioni definitive. E penso che a questa domanda debba rispondere Mattia Binotto. Al momento ho ricevuto il messaggio che non c'è niente che io possa fare al momento e non è nelle mie mani. Ovviamente sto cercando di dare il massimo questo weekend e spero che questo possa dare una spinta alle cose. Bottas è ancora ben posizionato, nonostante le voci che stiano spingendo per più soldi o un contratto a più lungo termine di quanto offerto. Ma si capisce che non è così e il ritardo riguarda semplicemente la decisione finale di Sauber e Audi. Sebbene si avvicini l'attesa indica che le possibili alternative non sono ancora state del tutto scartate. Ciò significa che Bottas non può far altro che starsene tranquillo, continuare a fare bene il suo lavoro e aspettare la decisione finale. Nonostante Binotto abbia recentemente affermato che la Sauber sta valutando Mick Schumacher, si ritiene che il team non lo consideri un candidato valido. Schumacher ha fatto parte della Ferrari Driver Academy dal 2019 al 2022. E sebbene Binotto lo conosca bene e rispetti le sue capacità, è comprensibile che non sia considerato un'opzione migliore di Bottas. Schumacher ha anche dimostrato di essere un pilota abbastanza capace, ma il suo potenziale in termini di prestazioni complessive è inferiore a quanto un team di queste ambizioni possa accettare. Considerata la pressione esercitata in Germania dall'Audi affinché lo ingaggi, è logico che la Sauber e il futuro capo dell'Audi, Mattia Binotto, siano cortesi riguardo alla sua candidatura piuttosto che troppo onesti. E questo ha anche colto di sorprese il team principal della Williams quando ha descritto Schumacher come non speciale durante il weekend del Gran Premio d'Italia di settembre. E sebbene ciò significhi che la sua candidatura non può essere scartata a priori, sarebbe probabilmente motivata da fattori che vanno oltre ciò che sa fare in macchina. La vera minaccia per Bottas e il motivo per cui Sauber non si è ancora impegnata con lui sembrano essere le alternative più giovani. Come ad esempio Bortoleto, il leader della Formula 2, che è ritenuto il favorito. Il brasiliano ha vinto il titolo F3 dal 2022, è entrato nella A14 Management, il programma di gestioni per giovani piloti del due volte campione del mondo, Fernando Alonso, e dal 2024 fa parte della McLaren Young Driver Program. La McLaren però dal canto suo non può promettergli qualcosa di certo, dato che sia Lando Norris che Oscar Piastri hanno accordi a lungo termine. È un grande pilota, al momento la nostra priorità è aiutarlo a vincere il campionato di Formula 2 e quello su cui ci siamo molto concentrati. Non abbiamo un posto vacante, siamo molto contenti dei nostri piloti e non vorremmo frenare un pilota nella sua carriera. Un accordo con Bortoleto sarebbe possibile se ci fosse il pieno controllo del futuro del brasiliano. Mentre la McLaren è aperta a questo richiederebbe anche che vengano concordati i termini adeguati e che Bortoleto stesso sia desideroso di trasferirsi in un'altra squadra. Una in cui Binotto ha recentemente esteso la tempistica per arrivare alla fine al 2030. Non si può escludere un accordo di prestito a breve termine, ma Audi non entrerà in Formula 1 per fungere da accademia di sviluppo piloti per rivali di maggior successo. Ma ci sarebbe anche un altro pilota, ad esempio Franco Colapinto. Attualmente è destinato a rimanere in panchina come riserva della Williams l'anno prossimo. Nonostante le sue impressionanti prestazioni da quando ha preso il posto di Logan Sergente, ma c'è stato un dialogo con Sauber. Tuttavia per ora l'interesse sembra essere diminuito anche se Williams è aperta la possibilità di liberarlo. Anche se ha un prezzo che tiene conto del contratto a lungo termine. E la lunga attesa nel dare a Bottas una risposta fa capire che non è il favorito. Tuttavia Binotto non è in carica da molto tempo e la volatilità del mercato piloti si è un po' plafonata. E forse questo farà sì che ci vorrà un po' più di tempo per prendere una decisione. E Bottas sta sicuramente vivendo un momento di alta tensione dato che c'è ancora la possibilità che la Sauber opti per un'alternativa. La vera domanda è, siamo giunti al capolinea per la carriera di Bottas? E nì, nel senso che è un pilota che non ha più nulla da dimostrare, ma ha fatto bene in questa stagione e in passato con macchine sempre meno competitive. Ed è giustamente considerato un pilota che ha ancora la velocità e l'esperienza per essere un'ottima risorsa per una squadra che ha un disperato bisogno di fare progressi. I risultati sulla carta sono pessimi, ma per colpa della Sauber, dato che è sulla buona strada per essere la sua prima stagione senza punti dopo 12 anni di Formula 1. Ma dopo un breve periodo iniziale in cui la Sauber poteva entrare in top 10, i suoi tentativi di conquistare punti sono stati ostacolati da problemi pistop. E la C44 si è stabilizzata diventando decisamente la vettura più lenta in campo. E in questo contesto il fatto che Bottas sia arrivato 6 volte in Q2 fa capire che il manico non gli manca. Se non hai la macchina è davvero difficile mostrare cosa sai fare. E poi per le persone che prendono decisioni per una grande azienda tendono a guardare il resto. Quindi al momento non è facile brillare, ma devo solo fidarmi di Mattia, lui sa cosa otterrà da me. Questa è una considerazione fondamentale per un team che ha già sprecato molto tempo mentre si prepara a diventare la squadra ufficiale Audi nel 2026. A 35 anni difficilmente sarà il pilota che porterà l'Audi alle vittorie, alle conquiste del campionato mondiale che spera di raggiungere nel 2030. Ma come detto ha le competenze e l'esperienza per svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di questo obiettivo. Niente è certo finché l'accordo non viene firmato, siglato e consegnato. E Bottas in questo momento non può dare nulla per scontato da qui alla fine. La sua lunga attesa per un accordo per il prossimo anno durerà quindi ancora per un po'. Grazie a tutti!